10 Consigli per aumentare le visite di un sito web Ecco una breve guida per aumentare le visite le proprio sito web in poco tempo. Si tratta di semplici trucchi per far salire gli accessi di un sito internet o blog, da seguire o meno in base alle proprie necessità e dalla tipologia di sito. Non esiste una regola generale per avere un blog di successo, e sicuramente non bisogna abusare di certi metodi, o si verrà etichettati come spammers, ma è bene conoscere tutte le varie alternative per aumentare gli accessi al proprio sito internet. 10 Consigli per aumentare le visite di un sito web Qui di seguito alcuni trucchi validi per aumentare la popolarità del proprio sito internet, su Google prima di tutto, ma anche sui vari social network e sui vari canali per blogger. Prova a seguire questi semplici consigli utili per aumentare le visite di un sito web, e vedrai che con un po' di costanza ed impegno, otterrai dei buoni risultati. 1. Creati uno o più canali sui social network Che sia Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+, eccetera. Non importa, basta essere presenti nei social network, in quanto molta gente legge le notizie lì, ed un post può diventare virale in qualsiasi momento, regalandoti da un giorno all'altro fama e gloria. 2. Scrivi per Google Scrivi in maniera SEO, ovvero in maniera appetibile per Google, usando più sinonimi ed abbondando con le spiegazioni anche quando non necessarie. Grazie a Google infatti, ed ai motori di ricerca in generale, la gente arriverà a te nei più disparati modi, senza che tu debba per forza andarla a cercare sui social. 3. Fai dei post bomba È innegabile che ci sono degli argomenti più gettonati degli altri, quelli che tutti cercano e che tutti vogliono, esempio come fare soldi facili online. Se riesci ad indicizzarti su Google con qualche post bomba, potrai vivere di rendita per un bel po'. L'importante è che gli articoli che scrivi su internet siano utili a chi li naviga, o riceverai l'effetto contrario. 4. Fatti notare nei forum e nei gruppi Scrivi commenti intelligenti, anche nei social network, e la gente arriverà a te e al tuo sito da sola. Volendo potresti lasciare qualche link a qualche tuo articolo ogni tanto, ma non abusarne per non essere bannato come spammer. 5. Segui la moda del momento Se vuoi un sito, blog che abbia tante visite ogni giorno, potresti anche sfruttare i trend del momento. Come? Con Google Trend ovviamente. Scrivi articoli sugli argomenti del momento, e la gente arriverà a te. 6. Scambia link con altri siti Il buon vecchio metodo del link exchange può sempre funzionare, a patto che tu lo faccia con siti inerenti ai tuoi argomenti. Infatti, un sito che porta visite è bene, un link su un sito che non porta visite è invece male per Google. 7. Scegliti una categoria specifica Io questo consiglio non lo seguo molto perché mi piace scrivere di tutto, ma è in dubbio che se Google ti riconosce come il massimo esperto di una cosa, sarai ai primi posti nei risultati di ricerca. Inoltre, se un utente ti sceglie perché parli di cinema, potrebbe rompersi se ti vede parlare anche, spesso, di cucito, quindi valuta bene quale è l'argomento di cui vuoi parlare, ed eventualmente creati più siti. 8. Scrivi articoli correlati Crea dei post che siano in relazione tra di loro, come una vera ragnatela di link, in modo che un utente possa saltare da una pagina ad un'altra del tuo sito. Infatti, un conto è essere trovati su Google e soddisfare la curiosità di una persona su un argomento, un altro è quello di catturare la sua attenzione con tanti articoli utili, facendogli fare un bel giro sul tuo sito uguale più visite. 9. Studia gli articoli più visitati del tuo sito. Impara ad usare Google Analytics e capisci il perché alcuni tuoi articoli hanno successo ed altri no. Questo ti aiuterà a replicare il risultato, aumentando così le visite del tuo sito. Cerca però di non cadere nella trappola della duplicazione di contenuti simili, a Google questo non piace molto. 10. Aumenta costantemente i contenuti del tuo sito. E' semplice matematica, è semplice logica, più articoli uguale più visite. C'è poco altro da aggiungere, se non, tieni sempre alta la qualità dei tuoi contenuti, altrimenti produrrai solo tanti post spazzatura che ti faranno da zavorra al posto che dà spinta. Questi erano solo 10 trucchi per avere un sito web di successo. O quantomeno per provarci. Quello che non deve mai mancare è la costanza e la passione. I risultati possono arrivare subito dopo mesi, ma se non molli e se ci credi davvero, prima o poi arrivano. Buona fortuna.